Signore, quando ritornerai nella Tua gloria, non ricordarti solo degli uomini di buona volontà, che anche tra loro sono stati tanti, ricordati anche degli uomini di cattiva volontà, ma allora non ricordarti delle loro servizie e violenze, ricordati piuttosto dei frutti che noi abbiamo prodotto a causa di quello che essi ci hanno fatto, ricordati della pazienza degli uni, del coraggio degli altri, dell'umiltà, ricordati della grandezza d'animo, della fedeltà che essi hanno risvegliato in noi, e fa, Signore, che questi frutti da noi prodotti siano un giorno la loro redenzione. Amen.